ho un contenitore d'ottone questo è il suo coperchio gentilmente se mi controlli che non ci siano fori fessure taglio cose del genere dentro c'è un dado e questa è la base adesso io non guarderò metto così tu gentilmente devi scegliere un numero metterlo nel contenitore e chiudi tutto con il coperchio il numero che scegli sarà quello che punta verso l'alto io ovviamente non devo sapere il numero perfetto grazie adesso ti chiedo la gentilezza di concentrarti su il numero che tu hai pensato e messo nel contenitore ok la mano sinistra perfetto guarda tieni il contenitore in mano va bene e concentrati i numeri presenti su un dado vanno dall'1 al 6 questa fascia numerica comprende in uguale misura sia numeri pari che numeri dispari ci siamo la tua scelta mentale potrebbe essersi orientata verso un numero pari tu hai scelto il numero 2 no Grazie per la visione!